Siamo tornati Waju, siamo tornati Napoli-Udinese 4-1 Waju, partita perfetta stasera, penso che il posto partita durerà parecchio Quindi mettetevi comodi perché oggi Waju commenterò tutti a pieni voti La mia idea per portare più contenuti sul canale era quella di fare più shorts possibili Ad esempio quelli di shorts, magari che parlo dei news del Napoli Probabilmente ne farò uno domani come Dio sicuro perché è successo un macello Che vi spiegherò non adesso ma nello shorts appunto E magari delle pagelle a fine partite per ogni partita del Napoli Di Coppa Italia, Serie A e Champions, ok? In generale Cercherò di farveli più veloci, brevi ma interessanti possibile Parliamo della partita però ragazzi, Waju finisce 4-1 al Maratona Finalmente torniamo a vincere, a vincere con parecchi gol di scarto Perché stasera ragazzi, secondo me il gol neanche lo meritavamo perché abbiamo giocato un calcio spettacolare Sembravamo il Napoli di Spalletti e questa sera Ludicarsia ha avuto le palle di fare dei cambi perfetti Di azzeccare i cambi e soprattutto di azzeccare un gioco formidabile Questa sera questo scudetto ce lo siamo meritati perché abbiamo giocato un calcio formidabile Ci siamo svegliati dopo un po' di partite che, ok abbiamo vinto contro il Braga ci sta Ma un culo contro il Braga l'abbiamo avuto E comunque Waju questa sera l'abbiamo dominato in tutto e per tutto E finisce 4-1 con i gol di Zielinski da Rigore, Osimen, Paraschelia e Simeone Per l'Udinese il solito Samarzic Sto qua a commentarvi soltanto l'Udinese per adesso il velocissimo Samarzic Ha fatto un gol della Madonna L'ultimo gol della partita è stato quello di Simeone del 4-1 Però lui ha fatto il 3-1 È stato un gol bellissimo raga Qua non c'è niente da dire, l'errore è stato di tutti perché si è saltato Angissalo, Bokta, Nathan, Ostigard E mi sembra pure Di Lorenzo Comunque sicuramente più di 5 Contando anche Meret ha fatto un gol bellissimo E bisogna alzarsi in piedi e fare applausi Per il resto ragazzi La partita finisce 4-1 Gol di Zielinski sul calcio di Rigore Rigore perfetto Stavolta non lo tiro Simento per Rigore fallito contro il Bologna Ma lo tira proprio Piotre Che è stato freddissimo a spezzare Silvestri Gol che sblocca la partita dopo pochi minuti Rigore procurato da Kvici a Kvara-Skelia Che stasera ha fatto un partito con Kvara-Skelia Due pali colpiti Due pali colpiti Un assist, un gol e un rigore procurato Stasera Kvara MVP assolutamente E poi Kvara è veramente sfortunato Perché ha preso ben due pali Ed è il primo gol stagionale che fa Lo fa stasera Spero che ne farà parecchi Perché se li merita a prescindere Perché gioca sempre bene Ma non riesce a segnare Quel che basta Per essere decisivo in partita Più che altro che Kvara Stasera ha dominato Ha dominato, ha dominato Ha fatto un gol Un assist, due pali colpiti E Rigore procurato Comunque Rigore bellissimo di Kvara-Skeliski Perdono Poi gol di Osimen Gol bellissimo Azione di Politano che ha giocato alla grande anche lui Messe in mezzo Prosimen Tiro al volo Gol di 2-0 Gol del 3-0 Lo segna il punto Kvara Dopo due pali colpiti Fa un recupero incredibile Mi sembra Su Wallace Non mi ricordo Mi sembra sì comunque Su un difensore Adesso sto facendo il post partita Veloce Perché poi andrei a Vorrei fare la reaction Prima possibile E comunque Gol per ragazzi Bellissimo di Kvara Che se lo merita Scavalca poi Sembra un gol semplice Ma non lo è Perché dopo aver recuperato il pallone Su un difensore molto tosto Che stava ripartendo Fa lo scavetto a Silvestri Che esce dalla porta E poi un tiro Spettacolare ragazzi Che nessuno può prendere Del 3-0 Infine il 4-1 di Simeone Gol veramente bello Assis di Kvara Che dopo il recupero Mi sembra di Nathan Riparte La mette in mezzo Simone di testa Batte Silvestri Per il quarto gol Per il resto ragazzi Mario Lui perfetto Di Lorenzo ragazzi Giocatore formidabile Di Lorenzo Ha sfidato il gol Anche oggi Poi raga Nathan Mi è piaciuto un sacco Nathan stasera ragazzi Ben 3 tackle Bellissimi Nathan mi è piaciuto Da morire Austicard anche Mi è piaciuto Lobokta Andissà Formidabili stasera Soprattutto Lobokta Ziliska ha giocato bene Kvara Non ne parliamo Osimene Sì Ha giocato molto bene Anche lui Politano Uidem Invece i cambi Mi sono piaciuti parecchio Sono entrati Lindstrom ragazzi Ha giocato benissimo Lindstrom 20 minuti si è fatto Bravissimo Sivone Vabbè Ha segnato Bravissimo anche Cagliust Che è entrato molto bene Ed Elmas Per il resto Niente ragazzi Scusate Non ho portato la reaction Contro il Bologna Ma negli 0 a 0 Ho preferito Fare così Da oggi in poi Non farò più video Cioè Non farò più reaction Sugli 0 a 0 E niente ragazzi Forza Napoli sempre Ci vediamo alla prossima